in questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente integralmente disponibile su parallelo questa storia a ritroso finiva appunto in nord africa dove l'artista aveva passato i primi 16 anni della sua esistenza e dove non era mai più tornata ricordo che questa assenza di ritorno mi colpì pensai che il dato biografico ed emotivo non poteva essere disgiunto da quello artistico e iniziai a guardare alle sue opere in maniera diversa le forme che affiorano nelle sue sculture e nei suoi disegni sono geometrie sviluppate in due o tre dimensioni ma la loro ricorrenza quasi ossessiva sottende un mistero e mi aveva sempre fatto sospettare qualcosa da menti ripetuti all'infinito che acquisivano altre sembianze e apparenze porzioni ingrandite di geometrie più complesse di cui si era persa memoria e l'impossibilità di andare ad algeri per motivi ancora oggi non del tutto identificabili ma probabilmente di natura politica le ha dato la possibilità di scoprire marrakesh e forse di ritrovare qualcosa di sé in un luogo bellissimo bellissimo racconto e soprattutto metti in evidenza le superfici delle città i colori le parole i suoni tutti elementi rappresentati qui da da questi preziosi ospiti e che naturalmente sono tutto questo meccanismo attivato dall'opera dell'arci racconti di questo viaggio è come se la geografia e ciò che implica fossero solo un percorso da seguire verso il sé la via e non la metta orientarsi letteralmente in quanto ai progetti murali che mi ero profissata di realizzare per il mio viso e i presenti qui mi è immediatamente apparso il pensabile dipingere dei nuovi, impossibile e congruo segnati di nuovi permanenti, sono la luce e l'ombra veri protagonisti a Marrakesh in eco ai miei studi sulla cultura visiva islamica e sul suo rapporto con la teoria della visione oltre che la città a essersi imposte e i muri stessi con la loro verticalità poi il transitorio, l'efimero che rispecchiano la consapevolezza dell'inafferabile e forse la reluttanza per l'immagine che si pensa necessariamente permanente con il suo conseguente predominio sul già esistente lo spazio è impenetrabile il tuo lavoro fa sorgire una domanda nella bellissima opera La città nella storia di Lewis Manford illustra come nel 360 d.C. Damasco, Gerusalemme e Antiochia erano già molto evolute in termini di funzioni sociali rispetto a Roma con 25 km di strade fiancheggiate da portici illuminate di notte L'artitettura esprime l'essenza fisica e simbolica delle culture che contiene sollecita e racconta pensieri e azioni dell'essere umano in tutti i luoghi del mondo Allora io dico Marrakesh è la città del possibile in questo termine veniamo già a trovare qualcosa un antidoto all'impossibile e diventa la città del possibile mi spiego io da quando sono arrivato qua dagli artigiani dalle diverse perché è una terra di incrocio di culture bisogna ricordare che siamo nel nord dell'Africa in un paese dove nelle montagne dell'Atlas troviamo una grandissima cultura ebraica fatta di artigiani fatta di simboli fatta di... che poi è diventata berbera che poi si è arricchita con tutto l'arrivo dall'Occidente perché da noi è arrivato l'Islam tramite l'Andalusia e siamo diventati un po' depositari di una grande ricchezza di una... La musica tra tutte le arti è quella con un pubblico più basso quella che maggiormente suscita identificazione e appartenenza penso agli spirito al flamenco al pop quindi il produttore musicale e dunque un'azione dirompente nella società ma l'opera è... io vi faccio un po' l'archivio di la creazione di questi espaci sonori di questa geometria di l'invisibili che ci ha riunito con Delphine la prima cosa c'è... io vi faccio una piccola frase di Gilles Deleuze in un libro consacrato a Francis Bacon che si chiama La logica della sensazione e che è stato veramente il principio artistico della creazione di questi espaci sonori la forza è in rapporto con la sensazione il faut che ci sia una forza che si exerce su un corpo cioè un endroit dell'onde per che ci sia sensazione è così che la musica deve rendere sonore le forze invisibili questa frase è stato il principio di base della creazione di Peace is Not Believe che è una installazione sonora e videografica che è stata creata e inventata per la Biennale di Sarge fantastico insomma non ho capito tutto però mi pare che sia un elemento centrale intanto il rapporto musica-spazio e soprattutto il recupero della memoria ancora oggi tutte le culture del mondo occidente come l'oriente ostracisme ed ignoranze sono alla base delle distorsioni e miserie ci parla della sua idea di rapporto tra etica e parole e dice abracadabra questa parola abracadabra è ebraica non so se lo sapete ma vuol dire qualcosa vuol dire abracadabra creo io creo ka come dabara ha parlato Dio non si può creare qualcosa senza imitare la maniera nella quale Dio ha progettato la sua parola perché c'è un ordine e questo ordine si ritrova nella parola cosmos perché cosmos vuol dire ben ordinato in greco e siamo un microcosmos un piccolo ordinato un tutto ordinato e siamo davanti a questo macrocosmos e abbiamo delle corrispondanze in tutti i punti di noi siamo se si può dire l'uomo è presentato così come in contemporaneamente trovate i dialoghi di arte scienza letteratura storia filosofia architettura cinema economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi piatorevoli interpreti che si può dire